Suo padre faceva l'ottico, sua madre è una casalinga. Come nasce la danzatrice Luciana Savignan? Dunque, nasce da una mia prima visita qui in questo teatro, forse alla decima o quindicesima fila dove siamo ora, ad una rappresentazione del Lago dei Cigni. Io, piccolissima, mi sono talmente innamorata di questo teatro, che è stato abbastanza semplice, abbastanza facile per mio padre, il quale, oltre all'ottica, amava moltissimo il teatro e l'opera lirica. Quindi il passo è stato breve. Ecco, perché una ragazzina decide di fare la danzatrice e non, ad esempio, la cantante? È già una vocazione un po' particolare. Ma, le dirò, la danza è un qualche cosa che prende moltissimo le bambine, soprattutto. Per i maschietti è già più difficile. Ma una bambina così, già ha questo movimento, questo modo tipico, un po' femminile, un po' aggraziato, che ce l'ha proprio naturalmente, quindi è già predisposta verso questo genere di arte, suppongo. Dal canto mio, così, sono sempre stata abbastanza facilitata, se vogliamo, da questo fisico così dinoccolato, allungato, molto snodato, eccetera. Quindi è stata quasi una scelta naturale. Mi sono trovata in mezzo alla danza, forse nemmeno senza rendermene conto. Che cosa si prova a muoversi su un palcoscenico, sull'onda della musica? Ma, guardi, è una sensazione stranissima. Non lo so quello che provano gli altri. Io, personalmente, quando sono là sopra, così, mi sembra di essere talmente fuori dal mondo, talmente sospesa, talmente al di sopra di tutto e di tutti, che, così, un momento del genere non lo cambierei con nessun altro. Lei è stata a scuola anche al Bolshoi. Che cosa le hanno insegnato i russi? Che cosa ricorda di quell'esperienza? La ricorda è un'esperienza senza dubbio molto, molto positiva. Innanzitutto perché avevamo un insegnante esclusivamente per noi. Noi eravamo in cinque allievi. Quindi avere un insegnante che si dedichi anima e corpo a cinque allievi solamente è già un privilegio, non indifferente, direi. Quindi questa donna meravigliosa, ricordo che mi ha insegnato a scoprire il mio corpo. Ha insegnato a far sì che io potessi muovermi, naturalmente, naturalmente tenendo presente queste mie agevolazioni, se vogliamo, però nello stesso tempo per certi passi erano un po'... mi handicappavano, se vogliamo, perché così la danza non è tutta libera, lasciata andare, ha bisogno anche di essere tenuta, trattenuta. Quindi io ho scoperto cosa serviva a me per tenermi più in forma, diciamo, più rigida per il balletto accademico. Danza classica, danza contemporanea, che differenza c'è tra il moderno e il classico? E lei poi quale preferisce? Io personalmente preferisco la danza contemporanea, perché mi permette così di esprimere una gamma più vasta di sentimenti, di espressioni che io sento dentro, cosa che probabilmente nel balletto accademico non potrei, perché sono obbligata da determinate coreografie, determinati movimenti. Quindi chiaramente è necessario e è importantissimo avere una base classica e di tanto in tanto fare anche delle cose classiche. Però io trovo che oggi come oggi la danza con De Parania sia la danza del ventesimo secolo. Ed ecco sul palcoscenico della scala il balletto. La bisbetica domata, protagonista Luciana Savignano. 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 Grazie a tutti.